Domenica 14 agosto torna a Bova Marina la Notte Bianca. Musica, teatro, concerti, danza, artisti di strada, trampolieri, mangiafuoco, giocolieri, spettacoli itineranti, cabaret, giochi per i più piccoli, bancarelle, artigianato, hobbistica, ma soprattutto negozi aperti tutta la notte e salvi, non stop. Alle 21.30 in piazza Municipio la commedia Assimenza Miraculosa con la compagnia Palcoscenico 91. Alle 22 al Ponte d'Andrea spettacolo Dance Time con il centro studi danza di Sabina Maisano. Alle 22.30 in piazza Stazione presentazione Polisportiva Bovese e in piazza Don Bosco i Nonni Sprint. Street Live durante tutta la Notte Bianca, Riddance Clearwater Revival, Rodaos Rock Band, il gruppo Folk Stella del Mare, gli spettacoli itineranti della Takaboon Street Band e l'animazione di Giocolereggio. Alle 23.30 in piazza Stazione Tappa del grande Paleariza Festival con il concerto di Ciccio Lucera e i Kumesi. Dalle ore 21.30 dal nostro studio mobile su Corso Umberto I, la diretta radiofonica di Studio 95 e la diretta televisiva di Telebova Marina e Melito TV con i nostri migliori speaker e DJ. Si domenica 14 agosto non restare a casa, scegli la più bella Notte Bianca della provincia di Reggio Calabria. Ci vediamo a Bova Marina.